Monitoraggio, costi di manutenzione, consumo, guasti. Qual è il ruolo dei dati nel percorso verso l'efficienza della produzione e manutenzione dei propri impianti? Come abbiamo visto negli ultimi video della serie Analytics Next, l'analisi dei dati permette di accelerare la risoluzione dei problemi e pianificare interventi mirati per migliorare le attività operative e manutentive. Le aziende possono utilizzare modelli analitici per identificare le aree di malfunzionamento degli impianti con significativi ritorni sul business. La disponibilità di tecnologie innovative che facilitano la gestione di grandi mole informative e l'analisi dei big data permettono infatti di ottimizzare le attività di produzione e manutenzione degli impianti dando all'azienda la possibilità di individuare le aree di malfunzionamento prima ancora di effettuare ispezioni sul campo. Si riducono in questo modo i tempi di intervento a vantaggio della efficienza e continuità operativa. Con l'analisi predittiva, inoltre, è possibile stimare l'impatto delle decisioni anche all'interno di contesti molto dinamici, condizionati da numerose variabili che sarebbero altrimenti difficilmente classificabili. Ecco allora che l'utilizzo dei big data permette di evidenziare e risolvere i malfunzionamenti in maniera mirata migliorando l'efficienza produttiva degli impianti e riducendo i costi di ripristino in caso di danneggiamento e i modelli analitici che si creano di conseguenza possono permettere di comprendere e risolvere problematiche rimaste aperte per lungo tempo. Questi vantaggi possono essere sfruttati da tutte le aziende per monitorare costi di manutenzione, consumo e guasti. Nel momento dell'analisi dei dati, infine, una delle maggiori criticità è quella di trovare le chiavi giuste che siano in grado di uniformare le informazioni estremamente variegate che arrivano e che, come abbiamo visto nelle puntate scorse, devono essere necessariamente ordinate per poter effettuare le analisi. Che cosa ne pensate? Appuntamento ragazzi al prossimo Analytics Next. Ciao e rock and roll!